Ah, vediamo un po' cosa posso giocare stasera ragazzi, suggeritemi qualche champion in chat, qualche champion veramente tosto, incredibile Greaves non è male, sapete? Vado Greaves jungle? No, dopo Aurelion's Hall jungle, ossia in full up support Aurelion's Hall, tu conta che io ancora non l'ho mai giocato, se me lo fai giocare jungle vuol dire che mi vuoi proprio male Però lo farò, only for you Ma aspetto 150.000 euro di donazione se faccio Aurelion's Hall jungle Poi vabbè, sicuramente workerà anche, probabilmente Perché Takinolary mistura? Ok, aspetta Pop 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 Grazie a tutti 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 Che gli ho servito Che gli ho servito Incredibile che t'ho servito zio D'ultimo Tisi easy gli ho servito Grande grandissimo Grazie 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 Come lo aspettavo Unexpected damage Grazie 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 No! Ero appena andato in base a comprare No Shit Non ho potuto nemmeno provare il danno vero di Graves' Giungla Dannazione Perché? Che è successo? Hanno sorrendato e io avevo appena comprato Avevo shoppato 4500 gold Ma lol Mi ha posso fare, dai Avevo comprato Phantom Dancer, Death Dancer E' un oggetto da difesa Sì, vabbè! Sì, vabbè! Grazie per la visione!